Ciao ragazzi, allora gentile richiesta, tornano i miei video, so che molti li stavate aspettando quindi vi sono mancato per un po' di tempo, però non vi preoccupate, sapete, gli impegni sono tanti quindi non potevo passare il tempo a fare video, magari avessi tutto sto tempo tra l'altro poi, il caldo mi sta uccidendo, perché prima fa caldo, poi fa freddo sto anche molto raffreddato, sentite la voce che ormai è diventata tutto attaccato sono anche emozionato, pensate io a fare questi video, sono molto emozionato perché so quanta gente li aspetta, perché so quanti amici vogliono ascoltare delle cose vogliono sentire quello che penso sulla vita, sulla quotidianità allora, ovviamente si parla, adesso comincia l'estate, quindi si parlerà sicuramente di concorsi di bellezza si parlerà sicuramente di estetica, volevo invitare gli amici che mi guardano, tutti i miei fan come si suol dire, di andare in palestra e di non ricordarsi sempre, prima delle vacanze, di andare in palestra conosco tanti ragazzi che sono sformati, ciccioni, che sono fuori forma che ricordano soltanto di frequentare la palestra quando comincia l'estate appena sventano un po' di caldo, si fiondano in palestra a fare i pesi non funziona così, ecco, non funziona assolutamente così bisogna andarci sempre, perché il fisico va curato durante il tempo io non sono fisicato assolutamente, ma sono un grande stimatore dei miei corpi e questo lo sapete, chi mi conosce lo sa state attenti, ecco, perché non vi ricordate alla fine, perché tanto in due mesi non combinate proprio nulla ve la posso assicurare, non combinate assolutamente nulla bisogna sforzarsi, l'impegno è forte quindi faccio un abbraccio a tutti quanti voi messaggio veloce, rapido, questa sera mi sono voluto dedicare veramente poco però vi prometto che nei prossimi giorni metterò altri video cercherò di parlarvi un po' di più darvi qualche consiglio, qualche suggerimento sapete ogni tanto serve questo, perché sai, suggerimenti sono importanti aiutano, aiutano tanto a vivere, questo lo sapete e allora, ciao, un bacio a tutti buona serata, buonanotte fate i bravi e soprattutto seguitemi, perché su YouTube ci sono tutti i video che mi riguardano cercate Armando Sanchez, lo sapete, è molto facile ciao a tutti, un bacione, buonanotte ciao, ciao belli